Consapevolezza è essere consci di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo mangiando, di come, con quali materiali stiamo costruendo, in quale cultura, in quale contesto climatico e culturale. Molto semplice, il cemento del XXI secolo si chiama legno. La consciousness che ho vissuto nei cinque giorni passati in Norvegia è assolutamente fantastico, quindi io credo che la Scandinavia forse in questo momento è il punto più avanzato per quello che riguarda la consciousness architettonica, culturale e anche, non ultimo, il cibo. Il cibo è il chilometro zero, la cultura dei tre zeri, zero chilometro, zero CO2 e zero immondizia. Mi sento di dare lo stesso consiglio che do quasi tutti i giorni ai giovani, quello di non studiare assolutamente, ma di andare in una bottega e cercarsi un maestro e imparare dal maestro, così come ho fatto io e quasi tutti gli altri. Siamo tutti principianti e dopo aver finito gli studi sappiamo molto meno di prima.